Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Va bene a voi spettatori, non cambiate canale. Tra poco inizierà la mia intervista. Grazie Pietro. Nel mio tuta nuova puntata abbiamo ospite, allora, attore specializzato nel mondo del doppiaggio, ma anche direttore del doppiaggio, dialoghista, attore, abbiamo detto attore teatrale. Allora, però la prima domanda più semplice, oltre che Pino Piovano, la prima domanda... Pino. Pirovano. Pirovano, scusami, Pino Pirovano. Guarda, innanzitutto, grazie a avermi invitato e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Ma è una cosa abbastanza, come dire, chiara e consolidata nel tempo, che fino a Firenze il cognome viene detto in modo corretto, Pirovano. La Firenze in giù diventa Pirovano, ma questo è un po' per l'accentazione del Sud. Io da mezzo buon suddista lo so. Eh sì, ma la prima domanda più semplice che forse ti possiamo fare. Se te si descrive oggi chi è Pino, come lo descriveresti? Allora, beh, uno che nella sua vita è partito cercando e volendo fare un'attività diversa da quello che svolge, perché, riassumendo, io sono un ex giocatore di basket che avrebbe voluto giocare a basket a certi livelli. Quando ero giovane ho fatto anche delle cose abbastanza interessanti. Una persona molto curiosa nella vita, sempre. Una cosa, un aspetto che non mi ha mai abbandonato, che ritengo possa essere stato anche un punto di forza nella mia vita professionale e anche personale, e che ha scoperto via via, strada facendo, l'amore per il teatro. L'amore per una professione che non pensavo assolutamente di fare, di svolgere. Io negli anni Ottanta stavo facendo l'ISEF, perché volevo diventare un'insegnata di educazione fisica. E a Milano c'è una squadra, una scuola di teatro molto consolidata, che si chiama Teatro Arsenale, di cui faccio la pubblicità con molto piacere, basata sul metodo Lecoq, che è stato un grande maestro del teatro, un pedagogo, ha lavorato e ha insegnato. È quello che ha portato, non so, anche la maschera neutra, le maschere larvali al piccolo teatro. Ha lavorato per molti anni, ho lavorato col piccolo. E due allievi di Lecoq hanno fondato questa scuola a Milano, Marina Spreafico e Cunyaki Ida. E io mi iscrisse allora, alla sera, mentre frequentavo l'ISEF, per la curiosità di capire e sviluppare il lavoro sul movimento, sull'azione fisica. Non tanto sul teatro in sé, ma perché facendo l'ISEF avevo questa curiosità di vedere come altri ambiti potevano sviluppare l'azione motoria. E da lì però è partito un meccanismo e anche un innamoramento per questa attività che mi ha portato poi, negli anni, a fare anche una scelta. Poi, come sempre, ci sono gli incontri fortunati nella vita e bisogna a volte saperle cogliere e a volte ti capitano. Io in quel periodo, parliamo dei primi anni Ottanta, frequento la scuola, mi diplomo e contemporaneamente ho altre attività parallele, tra le quali quella di aver fatto l'animatore e aver lavorato con Giobbe Covatta per cinque anni nei villaggi turistici. Nei villaggi turistici, Giobbe, assieme a un altro attore, animatore, che si chiama Vittor Ugo Satta, decidono di venire a Milano per tentare la strada del cabaret. Mi coinvolgono e quindi con loro comincio questa avventura in un ambito, se vuoi, che non aveva nulla a che fare col teatro vero. Era il cabaret del derby, del Cabianca, quindi un periodo veramente d'oro dopo gli anni fulgenti dei vari cabarettisti e comici più famosi. Ma in quegli anni sono usciti i maggiori comici italiani, a partire da Giobbe stesso, c'era Enzo Iacchetti, il povero Giorgio Faletti e tantissimi altri. E così ho cominciato a frequentare un ambiente dello spettacolo, un ambiente dello spettacolo, e questa voglia di voler diventare attore ha preso sempre più piede. Mi mancava tutta la parte sulla voce, diciamo proprio la base della dizione, la respirazione, la fonetica. E quindi che cosa faccio? Decido di iscrivermi al Centro Teatro Attivo. Faccio pubblicità anche a questa scuola, con la quale collaboro da 38 anni. E quindi io sono stato un allievo di Nicoletta Ramorino, che è stata la fondatrice. E frequento il primo anno del Centro Teatro Attivo. Lei alla fine del primo anno mi disse, molto onestamente, tu non farai mai l'attore. Aveva ragione lei in quel momento. Io glielo ricordo spesso, lei si mette a ridere, ma perché non avevo le competenze, forse ancora affinato una certa capacità dello strumento attore. Un po' con la testardaggine, un po' anche con la voglia di capire se effettivamente questo giudizio fosse definitivo oppure aperto a possibili variazioni, l'anno successivo, sempre al Centro Teatro Attivo, io incontro il mio primo vero grande maestro di teatro, che è stato Gianni Mantesi. Gianni Mantesi teneva il primo corso professionale del CTA. Io insisto con Nicoletta, le chiedo, senti ti prego, fammi fare un provino con Gianni. Lei è un po' titubante all'inizio, poi insomma alla fine combina questo incontro. Io mi presento a una lezione di Gianni e lui con molta semplicità mi fa entrare nell'aula e mi dice, va bene, fammi sentire qualcosa. Io avevo un solo monologo a memoria, che era oltre l'orizzonte di O'Neill, me lo ricordo ancora. Io non so che cosa vide Gianni in me, però alla fine il provino mi disse, va bene, siediti. E da lì è partito un po' tutto. Quindi diciamo che è cominciata la mia esperienza teatrale vera e propria. Con lui ho fatto il primo spettacolo da professionista, professionista, ho finito la scuola, ho consolidato poi la mia collaborazione nell'ambito scolastico con il CTA. Questo fino a metà degli anni 80, 87-88. E qui interviene il discorso del doppiaggio. Doppiaggio che in realtà per me era un mondo sconosciuto. avevo tanti amici attori doppiatori di quella generazione, della mia generazione, ma non sapevo bene cosa volesse dire doppiare. Un giorno Federico Danti, che è un doppiatore storico di Milano, un amico con il quale abbiamo fatto anche degli spettacoli teatrali, mi diceva, ma perché non doppi? C'era un po' lo snobbismo, se vogliamo, tipico di quegli anni degli attori, ma è il doppiaggio. Va bene. Insomma, mi porta all'allora Merak Film Deneb, che era uno succursale della Merak Film di Roma, e mi dice, va bene, segui un po' il doppiaggio, vieni da me, guardi qualche sessione di doppiaggio, e poi dice, dai, entri in sala, prova. E io, ti giuro Pietro, la prima volta che mi ha buttato in sala e mi ha fatto fare quello che fa normalmente un doppiatore, io mi sono girato e gli ho detto, tu sei pazzo, io questa cosa non la farò mai, perché trovavo talmente impossibile riuscire a mettere insieme i pezzi di quello che è il mestiere del doppiatore, che non sentivo nemmeno di avere le qualità. E allora ho chiesto, Federico, teneva i corsi lui al CTA, faccio il corso con te. E da lì è partito un po' tutto. Ho lavorato per tanti anni alla Merak Film, fino al 2003, dove ho cominciato come adattatore dialoghista, e nel 1999 Chip Barcellini, una figura che tu conosci bene, mi affidò la mia prima direzione. Anche lì. In modo del tutto inaspettato, io non pensavo di fare il direttore, sono quei sogni che, come dire, magari uno che fa questo mestiere può mettere nel cassetto, ma non erano tantissimi anni che avevo l'esperienza del doppiaggio, c'erano tanti altri doppiatori, anche più bravi di me. non so bene cosa ci vide, forse anche una certa attitudine, una certa meticolosità, una certa precisione. Insomma, mi affidò la mia prima direzione. E fondamentalmente, dal 1999, faccio il direttore di doppiaggio. Ecco, questo è un po' in grande sintesi la mia storia. Allora, intanto una domanda me l'ha già spolerata, quindi non te la ripeterò, perché nelle tue risposte mi hai dato una risposta. Però a questo punto io passo un po' intanto nel mondo del teatro. L'emozione è quando sei salito sulla prima volta nel palco, che ti sei aperto alla quarta platea, che in realtà davanti avevi un pubblico nel teatro inizialmente silenzioso, poi dipende dal tipo di commedia, di tipo drammatica. Senti un po' di brusio oppure senti un pianto, una risata, oppure il silenzio assoluto, che poi in realtà molto spesso è un silenzio che parla in quel caso. Qual è stata la tua emozione e soprattutto nel tempo, poi quell'emozione l'hai sempre rissuta oppure un pochettino è cambiata nel tempo? Allora, io ho ancora, lo dico sinceramente, è molto chiaro il momento in cui sono salito su un palcoscenico, si è aperto il sipario in uno spettacolo che era Girotondo di Girodù, che era uno spettacolo saggio sempre con Gianni Mantesi. E ho ancora molto ben chiaro dentro di me il cuore a mille, la salivazione azzerata, perché questo succede spessissimo per la tensione, e soprattutto questa sorta di vuoto nero che hai di fronte a te, perché il pubblico non lo vedi, che è durata non so dirti quanto, probabilmente in tempo della prima battuta o della battuta della mia compagna di scena in quel momento. Da lì non ricordo il rapporto con il pubblico, ricordo soltanto, per l'inesperienza, l'attenzione che ho messo nel cercare di ricordarmi le battute, di ripetere il percorso fatto durante le prove. Quindi io non me la sono, per certi versi, goduta anche come esperienza e come emozione. L'emozione c'è sempre. Io sono tornato a fare teatro da alcuni anni, in due o tre spettacoli. L'anno scorso ne ho fatto un altro a Varese, anche in un ruolo per me inaspettato, perché abbiamo fatto il sogno di una notte di mezz'estate e mi hanno fidato la parte di PUC. Quando il regista mi ha chiamato per decidere, per contattarmi sugli aspetti anche più formali, io la prima cosa che gli ho detto è stata, ma scusa, ma tu sei sicuro? Io ho 64 anni, un PUC di quest'età probabilmente non si è mai visto, però era quello che voleva lui. Cioè, diciamo, uno spirito ancora molto giovanile con un'esperienza data dall'età e dall'esperienza di vita. Ed è stato uno spettacolo, dal mio punto di vista, bello, ma bello nella ricerca, nella ricerca di aspetti a volte molto lontani da te o che sono diventati lontani. Ma l'emozione di salire su un palcoscianico c'è sempre. E io dico guai se non ci fosse, perché non è la paura, la tensione, è quel frizzicore, non so come dire, quel sentire che stai per affrontare qualcosa, che hai studiato ma che diventa ignoto finché non lo sperimenti quella sera con il pubblico di fronte e che ti mette, sì, un po' di tensione, ma anche il grande piacere. È chiaro che chi comincia e affronta per la prima volta questo percorso ha più paura che piacere nell'affrontarlo. Con l'esperienza, un po' con l'età, è chiaro che tutto questo viene un po' mediato, ma c'è sempre, ti assicuro che c'è sempre. C'è la paura di dimenticarsi le battute. Qualunque attore ti dirà che esiste un secondo prima di entrare in scena. Ha paura di dimenticarsi le battute. Non sono soltanto aneddoti o storie, sono situazioni vere, è così. E invece è poi l'emozione quando si scende al palco che si incontra il pubblico, che ti pongono anche delle domande, a volte ti guardano, sono emozionati e a quel punto non hanno neanche la capacità di farti una vera domanda, ma tu guardando il suo volto gli rispondi in modo che poi li rendi felici perché come se avessero fatto quella domanda che in realtà loro non ti hanno neanche fatto. Ti è capito? Sì, sì, perché il contatto con il pubblico, soprattutto in spazi che non sono quelli canonici del teatro all'italiana, quindi con il palcoscenico e il sipario, ma spazi diversi. L'anno scorso, per esempio, il sogno è stato fatto nei giardini estensi di Varese, sì, con una platea, ma il pubblico lo vedevi, poi era un po' dico itinerante. A me è capitato di fare un spettacolo bellissimo con la regia di Fabio Mazzari, che è un attore di vecchia data, ma un personaggio noto perché ha fatto uno dei protagonisti di Vivere, la sopopera di Canale 5 che è andata in onda per tantissimi anni. A Milano aveva uno spazio che si chiamava Spazio Zasì, che era una sorta di piccolo laboratorio, uno spazio molto piccolo con una colonna in mezzo e quindi il pubblico solitamente veniva adagiato attorno allo spazio fisico. In questo testo, Le notti bianche di Dostoevsky, quindi un testo anche molto complicato e difficile, la mia partner era Cinzia Massironi, la cugina di Marina Massironi, aveva il pubblico veramente a un metro, a mezzo metro e devo dire che io privilegio questo tipo di rapporto perché è decisamente, se vuoi, più difficile da gestire perché senti il respiro, gli occhi sono su di te, vedi effettivamente come le persone si stanno osservando, però credo che tu possa riuscire a trasmettere empaticamente un'energia, un'emozione completamente diversa perché non c'è la separazione della famosa quarta parete che però è data dallo spazio fisico del palcoscenico, del sipario della prima fila di platea. Quindi sì, le persone ti fanno i complimenti, si congratulano, a volte ti fanno delle domande, a volte anche tecniche, ma è un piacere parlare con le persone quando ti fermano perché io reputo che il nostro lavoro non termini solo quando il sipario si è chiuso o quando è finito lo spettacolo dopo gli applausi perché è anche bello interagire, è un approfondimento personale, oltretutto ti dà un sacco di informazioni su come hai svolto quel ruolo quella sera. Io da tanti anni insegno in questa scuola di teatro, mi capita di tenere seminari, corsi e c'è una cosa che dico sempre, non c'è nulla di più ripetitivo e se volete a volte noioso dell'attore che tutte le sere replica lo stesso spettacolo. Se vuoi ripete tutte le sere le stesse battute, lo stesso copione, le stesse entrate in scena, gli stessi percorsi su un palcoscenico. Che cosa dà secondo me la forza a un attore di poter migliorare e non entrare in questa routine? Beh, il fatto che la sera che ha fatto e ha svolto quel ruolo sicuramente avrà compiuto degli errori, ci saranno state delle cose che non hanno funzionato e quindi la sera dopo ha sempre un compito, deve sempre cercare di migliorare a parità di preparazione chiaramente di esperienza quello che la sera precedente ha mancato. Quindi ogni sera in realtà è un nuovo spettacolo perché ti metti sempre alla prova. Poi è vero come si dice il pubblico è diverso, io personalmente non ho mai dato la colpa al pubblico per delle situazioni che non sono state sviluppate con forza ed efficacia. Parto sempre un po' dal presupposto che è la nostra responsabilità di attore, quella di entrare in contatto e di trasferire. Se il pubblico non perde l'equilibrio come diceva Peter Brook non posso pretendere e scaricare la colpa sul pubblico che quella sera è venuto ad ascoltare e a vedere. sta a me far sì che il pubblico venga attivato sia appunto attento partecipe poi è vero ci sono dei segnali i vecchi maestri di teatro li conoscono perfettamente il tossicchiamento a volte anche lo sbadiglio che si sente però questo dipende da chi dal signore in platea che si sta addormentando perché è stanco perché sei tu che non lo sta interessando un po' mi ricorda un po' lo spettacolo teatro rumori fuori scena dove in realtà lo spettacolo ogni volta ogni ogni situazione porta a un cambiamento effettivamente miglioramento peggioramento non si sa però c'è questa cosa ma le domande più complesse ti vengono fatte dai giovani o dalle persone un pochino più attempate cioè un po' più mature due tipologie di domande quelle un pochino più attempate della mia generazione sono un pochino più analitiche ma perché arrivano anche con un bagaglio uso il termine culturale di conoscenza diverso e quindi sono un po' più approfondite nelle tematiche anche nel come dire nel chiedere tecnicamente cosa è stato fatto il percorso la relazione tra i personaggi probabilmente perché arriva la maggior parte di loro anche nell'aver conosciuto il testo se fai un testo classico o per una grande passione che si portano dietro da tanti anni i giovani sono più curiosi nel capire nel chiedere che cosa hai fatto come ti sei sentito cioè più l'aspetto emozionale che poi è quello che credo interessi loro più che l'aspetto tecnico perché è un po' rivivere delle emozioni per via indotta i neuroni specchio tu stai facendo qualcosa loro la stanno rivivendo e allora sono più emozionali le domande più che tecniche questo è un po' quello che è un po' la mia esperienza e a questo punto passiamo un pochettino sul mondo del doppiaggio prima cosa come è cambiato il mondo dell'oppiaggio non solo tecnicamente perché sono cambiate dalla bobbina che si tagliava si ripeteva a volte si ripeteva tutta una scena ma da quando è iniziato da quando oggi è cambiato come è cambiato nella tua visione il mondo del doppiaggio quanti ore hai per parlarne no cerco di essere esauriente anche perché guarda io partirei dal dal doppiaggio moderno cioè da quello che si sta facendo oggi con grande richiesta di quantità perché le piattaforme si sono sviluppate in modo incredibile perché tutti i canali ormai propongono dal film alla telenovela al cartone animato ogni ora dei prodotti audiovisivi e questo ha portato chiaramente a un incremento non tanto della quantità lavorativa perché in effetti si doppia un po' di più ma io non ritengo che si doppi molto di più di 10 15 anni fa è cambiato proprio la modalità del lavoro ma questo te lo diranno tutti e te l'avranno già detto tanti altri miei colleghi tu parlavi della bobina sì io ho cominciato nell'86 e c'era ancora proprio il nastro dove c'era il tecnico che si alzava prendeva la pizza la metteva in questo marchi ingegno enorme la tirava la sincronizzava e soprattutto come stavi ricordando se un attore sbagliava doveva ripetere interamente l'anello perché non c'era la possibilità di intervenire questo però ti dava una grande attenzione e una preparazione diversa da quella che gli attori hanno soprattutto quelli giovani hanno oggi il fatto che sbagliando un anello dovessi aspettare il ritorno del nastro fino al punto per ripartire l'anello ti permetteva di prepararti di concentrarti di aver capito dall'indicazione del direttore cosa avresti dovuto e potuto fare ora il fonico schiaccia un tasto e sei subito al punto di incisione e questa cosa ha sì velocizzato il processo lavorativo ma ha fatto un po' perdere di vista la qualità e anche l'attenzione che gli attori devono mettere nel loro essere attori interpreti pronti a lavorare al meglio in quella scena questo secondo me sta un po' abbassando il livello della qualità del doppiaggio non è solo questo ma questa secondo me è una delle ragioni poi il fatto che è notorio che i doppiatori debbano essere prima degli attori questo sfondo porte aperte frasi che tutti ti diranno è un dato di fatto oggettivo e quindi mancano dal mio punto di vista anche degli aspetti di formazione non che manchino gli attori manca forse anche una predisposizione e una volontà di far sì che gli attori che devono nascere attori e devono sviluppare il loro bagaglio di esperienza gli strumenti che hanno a disposizione possono avere anche il tempo poi in un ambito così specifico com'è il doppiaggio di poterlo utilizzare a volte cambiando drasticamente il loro modo di interpretare guarda io mi permetto modestamente di dire che da tantissimi anni nel centro teatro attivo scusa lo ripeto ma semplicemente non perché voglia fare pubblicità alla scuola ma perché la scuola con la quale collaboro tengo i corsi e sono responsabile dei corsi di doppiaggio e abbiamo fatto una scelta ho fatto una scelta che ho suggerito e la scuola mi ha appoggiato in questa molto molto chiara da noi i provini fra poco si svolgeranno prevedono come minimo il fatto che tu abbia frequentato uno barra due anni di corsi di teatro quindi che abbia una base tecnica già configurata la dizione che tu sappia lavorare sulla respirazione e che tu debba dimostrare anche di avere delle qualità al di là della voce e quindi anche che tu non abbia difetti di pronuncia che non abbia delle difficoltà nell'articolazione delle cose tecniche che non devono essere date per scontate perché un doppiatore se Dio vuole è ancora uno di quegli attori che nel proprio ambito deve parlare in dizione deve essere pulito deve articolare deve essere chiaro oltre a tutto quello che invece deve riuscire a esprimere a livello intenzionale quindi fatto questo primo blocco di lavoro si presentano a fare il provino noi ne scegliamo un tot un numero facciamo due corsi all'anno non di più corsi che si sviluppano una volta alla settimana per 32 settimane e per le prime 16 settimane quindi per metà corso i miei allievi non vedono un fotogramma perché devo cercare di far capire loro come un attore che si applica al doppiaggio debba anche cercare di cambiare una modalità interpretativa con certi stereotipi che abbiamo la chiusura la pulizia la velocità dei cambi l'aspetto intenzionale tutto un lavoro sulla voce cioè una serie di attività didattiche e pratiche che devono permettere loro nel momento in cui faranno la prima lezione a video di aver consolidato il loro essere attori che si approcceranno poi in un ambito particolare che è appunto quello del doppiaggio tu hai detto hai assistito come inizialmente hai assistito a una verifica cioè sei stato dentro la sala di registrazione hai visto i tuoi colleghi no ad opera in opera e hai capito come imparare dove poter migliorare i ragazzi di oggi già dalla prima della pandemia questo problema che entrare nelle sale non è possibile adesso oggi ad oggi c'è un rischio che questi giovani che vengono a crescere abbiano maggiori difficoltà nel volgere poi il lavoro del doppiatore non potendo osservare anche i tuoi colleghi di esperienza superiore migliore c'è come ed è molto concreta come dicevi tu già da prima della pandemia le sale avevano in qualche modo chiuso la frequentazione degli studi non starei qui a indagare i vari motivi in parte devo essere sincero un po' la colpa delle persone che arrivavano negli studi gli studi sono un posto di lavoro hanno delle regole le persone vengono invitate come qualunque ospite che venga invitato in un luogo che non gli appartiene dovrebbe avere un minimo di educazione nell'entrare proprio nel comportamento ti assicuro che io sono un direttore non lo dico per vantarmi ma semplicemente perché sono sempre alla ricerca di voci nuove perché queste sono il futuro di questo mestiere e sono le generazioni che seguiranno la mia e quindi io non ho mai negato il provino a nessuno te lo giuro mai a nessuno e ho sempre permesso alle persone di entrare nella sala dove sto dirigendo e assistere al turno di doppiaggio però posso anche dirti che ci sono stati a volte degli episodi dove tu stai dando un'indicazione hai appena finito di darla l'attore interpreta e senti sommessamente lunga sporca a che tu dici un attimo te lo assicuro quando mi è capitato io semplicemente mi sono girato ho guardato negli occhi questa persona che ha capito che forse non avrebbe dovuto aprire bocca mi sono rigirato e ho continuato il mio lavoro questa persona non è più entrata in sala ad assistere è altresì vero che un po' devo dire non so se per comodità o per quieto vivere le case hanno deciso anche di dire no questo è un luogo di lavoro e quindi vengono ammessi soltanto alcune persone vedi il fatto che il doppiaggio negli ultimi 10-15 anni abbia preso così grande spessore e desiderio nell'immaginario dei giovani ha creato anche un po' questo tipo di problema io sono vecchio quando ho cominciato io eravamo in due tre ad assistere ma durante la settimana e il mese adesso se aprissero le porte degli studi arriverebbero valanghe di attori pseudoattori doppiatori qualcuno al quale è stato detto semplicemente guarda è una bella voce perché non fai doppiaggio cose che sappiamo sono risapute e quindi tutto questo ha fatto sì che le case chiudessero le porte degli studi con la pandemia c'è stato proprio la lapide su questo tipo di situazione che io reputo purtroppo invalidante per chi deve fare questo lavoro e poi capisco che i giovani doppiatori che vogliono lavorare in questo ambito si mettano fuori dagli studi ad aspettare i direttori con tutto quello che ne consegue quindi io non ho una soluzione personalmente io con molta come dire tranquillità ma anche una certa selezione aprirei ancora gli studi facendo arrivare poche persone certo però vedi Pietro questo è un lavoro per chi lavora in uno studio non parlo dei direttori dei doppiatori parlo di chi gestisce praticamente anche solo all'accoglienza immagina delle segretarie di produzione che sono incaricate a dover chiamare i colleghi dare i turni che ricevono decine e decine di telefonate al giorno alla fine puoi ben capire che anche per loro si arriva a un punto di saturazione e dici no basta io non posso perdere tra virgolette il tempo a dire a un attore o presunto tale si guarda vieni il giorno tale no puoi venire no non puoi venire allora non lo so idealmente io riaprirei gli studi e ricomincerei a far fare i provini cosa che è importante perché i direttori non possono conoscere le nuove voci potenzialmente valide se non fanno provini allora io questo io questo pronome non mi piace tanto ma non ero su facebook fino a due anni fa non l'ho mai preso in considerazione come social con la pandemia un giorno non sapendo cosa fare mi sono iscritto va bene questo ha fatto sì che tantissimi giovani doppiatori anche non tanto più giovani mi contattassero io a tutti a tutti ancora adesso lo faccio do la mia mail dicendo se hai un dabbril una demo da mandarmi questo è l'unico modo che ho per poterti ascoltare perché non posso farti un provino in diretta con tutto quello che lascia come tempo rispetto al fatto che ti arrivano tante voci indipendentemente dalla pasta vocale alcune di grande qualità altre meno ma come faccio anch'io a potermi tra virgolette fidare io ho bisogno per fare un provino di testare sul campo un attore i provini che faccio non si limitano a entra guarda la doppia la esci ho bisogno di parlare di farlo chiacchierare a microfono di fargli fare non so una lettura a prima vista di fargli fare un'incisione se posso su due tre prodotti quando ho la possibilità sempre rara perché poi anche lì quando ti fanno fare i provino te li chiedono quando tu stai facendo un turno di direzione e se hai del tempo libero alla fine del turno e l'attore che deve essere provinato è lì in sala chiedi gentilmente al fonico perché anche questo non dimentichiamoci i fonici sono una figura professionale fondamentale in questo mestiere ma di cui nessuno parla i fonici sono gli altri due occhi e le altre due orecchie del direttore oltre a quelle dell'assistente è quello che sa gestire perfettamente l'aspetto tecnico vocale del suono se un amico fonico mi dice satura io non perdo neanche tempo farmi risentire dico all'attore rifalla e quindi devo io chiedere un favore anche a un altro un'altra figura professionale che è quella del fonico sarebbe bello riuscire a fare negli studi delle sessioni due volte all'anno tre volte all'anno dove si organizzano due o tre direttori danno la loro disponibilità gli studi mettono gli studi a loro disposizione e si possano sentire le voci nuove allora aspettiamo qualche secondo che si disconnette e poi così ci possiamo riconnettere ok perché studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di pietro va bene a voi spettatori non cambiate canale tra poco inizierà la mia intervista grazie pietro a